Fede mancano soltanto un minuto e trenta secondi Non ti trovo! E mancano soltanto un minuto e trenta secondi Ah 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 E' geniale comunque Prima di iniziare questo video che vi garantisco che sarà una roba proprio meravigliosa Preparatevi un qualcosa di epico Vi vogliamo chiedere un piccolo favore Youtube in questi giorni non sta funzionando bene Anzi in queste settimane L'unico modo per riuscire a vedere tutti i nostri video al 100% E' cliccare la campanellina che sta vicino agli iscriviti Esatto Quindi quando vi iscrivete o comunque quando andate dove c'è il tasto degli iscriviti Cliccate anche la campanellina e in questo modo vi arrivano tutte le notifiche ai nostri video E non vi perdete nessun video Adesso vi presentiamo il video di quest'oggi Che è di nuovo un nascondino Ma questa volta siamo in una villa meravigliosa E' enorme! Guarda Steph! Fede sei tu però Mi butto in piscina Sì è lei Sì è lei Ah sono già travestita Steph Sì Fede sei un villager in questo caso Non me ne ero accorta Nello specifico E volevo dire è una villa E' gigantesca Al posto degli animali abbiamo dei villager Che se notate sono di vestiti diversi Quindi ci potremo trasformare in diversi villager Che creerà complicanze Eccomi! Ma la cosa più importante in assoluto di questo nuovo nascondino Che abbiamo già aggiornato rispetto al primo E' che non solo ci trasformiamo in villager E ci dobbiamo trovare Ma avremo un timer dentro Minecraft stesso Di 3 minuti Che quando finirà darà la possibilità ad entrambi di utilizzare il fucile Ma chi si nasconde andrà in vantaggio Dato che Fede Uno ha nascosto Nel senso che uno è un villager L'altro no E di conseguenza ha un vantaggio enorme Quindi diventa una sorta di doppia caccia Perché se chi cerca in 3 minuti non trova L'altro inizia a cacciare E abbiamo anche un bel fucile Devo dire che questa K47 Sembra assai cattiva Eh guarda sta Non vedo l'ora di spararti in faccia Devo essere sincero Sei pronta? Sì Ok allora per avviare il timer Dobbiamo correre da questo lato Seguimi Se mi ricordo bene I bottoni sono da queste parti Chi parte a nascondersi Fede? Eh tu? Io? Sì Sicura? Beh perché no? Ok va bene Allora Doviamo andare qua Così E appena premiamo start timer Inizia Quindi direi che tu stai qui Premi il bottone Non appena io sono pronto Va bene? Ok quindi il timer è solo per me in questo caso No lo vediamo entrambi Ok vai Lo vediamo entrambi alla destra Ci sarà il tuo nome Ma tanto vale per entrambi 180 secondi E dopo che io ti posso sparare Anche tu puoi sparare Però Sarà in vantaggio Sei pronto? Allora no devo decidere in che cosa trasformarmi Allora anche perché io vedo ancora il tuo nick Però penso che quando ti trasformi Sparisce Giusto? Esatto 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 Facciamo questo Facciamo questo Ci sta Ci sta Ci sta Quindi Se ha funzionato Perfetto 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 Devi fare poi partire Vado? Sì 3 2 1 Via Non vedo il timer Lo so Ho visto che c'è anche un piano sotto Infatti è un bel casino Come si raggiunge dall'interno? Fede ci sono delle scale in un punto della casa Che ti fa andare sia sotto che sopra Quindi Trovate Non è troppo difficile Puoi stare abbastanza tranquilla Allora vediamo se riusciamo a notare qualche atteggiamento strano Vediamo vediamo Magari c'è qualcuno che si lancia di sotto Magari c'è uno staff che saltella e va in giro Oppure no Ma 40 secondi sono andati Difficilissimo Ma quando tu spodri l'arma Eh Io che faccio? No tu puoi spararmi Ok Ok Semplicemente io avrò il vantaggio Che teoricamente ti potrò sparare per primo Perché Eh beh certo Se tu non sai quale sono Quindi comunque mi posso difendere Sì 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 Ho solo un vantaggio Nulla di più Ok Allora Sto memorizzando bene i movimenti dei villager Ma non mi sembra di notare niente di strano Di troppo eccessivo Un minuto su tre Se ne è andato E tu sei fermo immobile Olè Sei fermo immobile In realtà dipende dal momento Ogni tanto mi sto muovendo Ogni tanto no Però in linea generale Però allora quando ti avvicini a loro Ti guardano proprio in faccia Il che è un ottimo indizio Ok Sei questo Ma se penso di averti trovato posso sparare Sì Ti ho sparato vero? Ferre stanno arrivando in tutti i secondi Ottanta secondi E Steph è morto Ok Ferre nasconditi pure Allora Prima di tutto Mi metto qui dentro Mi trasformo Così non sai neanche che villager Ho scelto mio caro Steph Ok Io voglio scegliere Va bene Questo Fatto? Sì Vado? Sì aspetta 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 Dimmi quando avviare Il buon posto per nascondermi Eeeh Qui può andar bene Perché no? Vai Steph Let's go Let's go Allora 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 Prima di tutto Dobbiamo capire qual è Ferre Tu Mi hai guardato benissimo Sei tornato normale Steph? Forse no Aspetta Come no? Perché poi ho difficoltà io a vederti Non è più un vantaggio Hai ragione Hai ragione Hai ragione Hai ragione Ok Sono tornato me stesso Giusto? Perfetto Sì 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 Tutto a posto Ricordati eh Allora Lei mi voleva distrarre Lei chiaramente mi voleva distrarre Ok Voi siete bravi ragazzi Sai che col villager è parecchio facile capire se sei tu o meno? Te l'ho detto io È molto interessante Te l'ho detto Bisogna basarla tanto sul nascondersi cara Ma proprio tanto eh Quindi Nasconditi bene Ti do questo consiglio Io in questo momento però non sono nascosta Steph Eh io ti sconsiglio questa tattica Sto andando in giro e ti vedo anche Devi essere sincero Prima ti vedevo Te lo sconsiglio Ok Sei tu? Sì Come hai fatto? Non seguivi bene Non seguivi bene È difficile Io ci ho provato a seguirti Ho seguito sempre la tua faccia 50 secondi 50 secondi Bene Devi Basalo sul nasconderti Sì Te lo garantisco Sì Praticamente tu mi seguivi Ma mi sono accorto che avevi un po' di dirle rispetto agli altri È certo Perché non riesce a essere meccanico come un villager Che è programmato per fare quello È molto complicato Già 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 Ed è molto più difficile di quello degli animali È stradivertente Mi piace un sacco Sì Il problema è che ho perso tutto il mio equipaggiamento È dentro la villa Ah è lì sotto Aspetta vado a riprendermelo dai Va bene Ti aspetto Ti aspetto Ti aspetto Facciamo che divento questa volta Lui Ok Vado Tre Ok Due Sì Uno Vado Via Sì 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 Nessun problema Partito il timer Steph Ok Molto brava Pam 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 Dove sarà Steph Secondo me lei non sa Che esiste questo Quindi Noi ne approfittiamo Quindi questa volta Devo puntare a trovare qualcuno Totalmente nascosto no Più o meno Totalmente Sì Abbastanza nascosto Abbastanza nascosto Ah 26 Sono preoccupato Non so se arriverò mai ai 3 minuti Per sparare Fere Non ne ho idea Devo essere sincero È tosta Stiamo a vedere adesso Come me la cavo Stiamo un po' A vedere La vorrei tanto sparare Anche perché sarebbe il modo Di vincere la partita Perché per ora Uno pari Nel senso che entrambi Ci stiamo trovati Quindi se uno dei due Vuole sbloccare la situazione E vincere Deve per forza Sopravvivere 3 minuti E poi sparare L'altro malamente Mi sembri preoccupata Cara No sto controllando Sto scoprendo stanze nuove Quello sì E quindi ti preoccupa Stanze che non avevo mai notato E cose del genere Ok 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 Comunque credo Che se hai il dubbio Su una persona Con il villager È semplice Tasto destro Cioè? Fallo soltanto Dopo che hai tanti dubbi Fai il tasto destro E lui è un mercante Quindi ti vuole proporre Degli scambi Ah beh sì Però vabbè Non volevo usarlo così Cioè preferisco andare Sull'intuito Solo se sei proprio lì Sparo Invece che ammazzare Un innocente Nel caso Fai il tasto destro Comunque si riconoscono Davvero tanto Perché ti seguono Proprio di brutto Sì ti seguono un po' Un minuto Sontrappassato E spetti Oh Steph Ma ti sembra una cosa da fare? Sì Assolutamente sì Secondo me Tu inizi a andare a pensare Ok Che tu sei andato Nel tetto della casa Nel tetto della casa Ma non si può raggiungere il tetto Secondo me sì Non si può raggiungere Secondo me ti ho trovato Un modo per raggiungerlo Che sta facendo? Nulla Smettila Steph Fere non mi troverà mai Fere non mi troverà mai Ovviamente l'abbiamo fatto Fere Ovviamente l'abbiamo fatto Devi spegnerlo Steph Aspetta Esce prima questo video O esce prima il video Dove facciamo vedere Questo papagallo Non è la più pallida idea Deception No Sì Devevano uscire Entrambi domani Quindi entrambi escono venerdì Uscirà prima quello del papagallo Quindi se volete capire Perché ho in mano Un papagallo Che dice tutto quello che dico Andate nel secondo canale Che è in descrizione Fere mancano soltanto Un minuto e trenta secondi Non ti trovo Mancano soltanto Un minuto e trenta secondi È geniale comunque Dammi un indizio Steph È il momento dell'indizio Sono all'aperto Ok Ok Cosa? Wow Già È un buon indizio no? Ok Meno male Meno male Meno male Meno male Meno male Attenzione Due minuti Sono passati Cara mia Due minuti Sono passati Cara mia Ma mi fa anche il tono Se faccio il tono No è trepitoso Ti imita proprio la voce Fa la tua stessa voce Ti imita proprio il tono È bellissimo È bellissimo Comunque due minuti su tre Attenzione Steph potrebbe sparare Per la prima volta Ti do un secondo indizio Ti ho detto sono all'aperto Ma ti ho fatto pensare All'esterno della casa In realtà sono all'aperto Dentro casa E come fai a essere all'aperto Dentro casa? Ci sono vari posti Tipo le terrazze I balconi Il tetto della casa Ci sono vari modi Vedi il tetto della casa Che io l'ho detto E tu mi hai detto Che non si può raggiungere Steph Oh cara Sei un bugiardo C'è il tetto Dovevo trovare il tetto Tutto è tattica Mi sono incasinato Ho rovinato tutto Volevo continuare Comunque io questo papagallo L'userò a vita È troppo bello Cioè è meme Ed è bug Ma continuo a cadere Dalle scale Accidenti Eh mi spiace Perché ci sono i villager Che mi tolgono La strada 20 secondi Allora come si Come si raggiunge Il tetto Sono quasi pronto Col fucile Come si raggiunge A 180 posso partire Il tetto Eh Ci sono delle scale nascoste Fere Per il tetto Però mi sembra Un po' in difficoltà No non lo trovo Mi sembri un po' In difficoltà Sono al pieno di sopra Ok Però non ho la più Pallida idea Di come si salga Sul tetto Steph Ma proprio Zero di zero Mi spiace È un problema enorme A parte i consolini Che sghignazzano Non sei sul tetto Eh boh Ti 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 Sono passati eh È guerra Ora è Call of Duty Cara mia Ora è Call of Duty Ah io mi nascondo A mia volta Dove sei Quale sei Non vedo l'arma Io sparo Sparo dritta Sparo dritta Sparo dritta Perché non ho colpi Ho finito i colpi Ho anche ricaricato Ok Sei quello No ho ucciso un villager Sei quello Cavoli i colpi Ma non durano una ceppa Sei questo Sei imbarazzante Perché Steph Non mi vanno i colpi Ma ti giri per favore E questo Dai era difficile Ce l'erano tutti fermi Bene Guarda Ok Io sapevo che tu non l'avevi visto Qua C'è il balcone Porca miseria Che schifo che fai Era nel balcone Da due ore Ma come facevi Da sapere che c'era il balconcino Stai tinto Inizio a tornare odioso Ecco perché abbiamo smesso Di fare il nascondino Steph C'è stato un motivo Per cui abbiamo smesso No io sono troppo felice In ogni caso Ci fermiamo così Lasciate tantissimi like Se vi è piaciuto questo video Se volete vedere Altri nascondini In questo stile Su Minecraft E direi che ci possiamo Fermare così Ciao ciao